Inverno troppo caldo fino a oggi e la tendenza climatica resta quella di una primavera anticipata. Potrebbe essere la prima stagione più calda degli ultimi 30 anni. Gli effetti del cambiamento globale in Sardegna stanno portando a gravi danni in agricoltura, con le dighe piene d'acqua per le intense piogge autunnali e ora le secche di gennaio che si prolungano in quelli che dovrebbero essere i giorni più freddi, ma che risentono dell'insistenza di un anticiclone africano poco intenzionato a cedere al freddo. Così le piante arboree fioriscono in anticipo ma restano esposte a galli repentini e gelate. In più il freddo non basta per uccidere uova e larve di artropodinocivi e un grido d'allarme, quello dei vertici della Confederazione Agricola Coldiretti, Battista Qualbu e Luca Saba. Ormai passiamo da una emergenza all'altra, non si contano più i danni e ci stiamo anche scontrando con insetti alieni e devastazioni davanti alle quali siamo impotenti. Per la siccità invernale occorre al più presto programmare l'utilizzo delle dighe per l'irrigazione dei campi. Coldiretti ha stimato in un miliardo il danno causato dagli insetti alieni in Italia, 740 milioni di euro dovuti soltanto alla cimice asiatica, soprattutto nelle regioni del nord della penisola. La presenza dell'insetto sta raggiungendo la Sardegna. Mentre, sempre da una stima Coldiretti, le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 milioni di euro nel corso di decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali, con il 2019 che si è classificato in Italia come quarto anno più caldo dal 1800, con una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto alla media di riferimento dopo i record del 2014, 2015 e 2018, secondo elaborazioni Coldiretti su dati ISAC-CNR.